Ci troviamo in uno dei borghi più storici d'Italia e di Bergamo in Borgo Santa Caterina, detto Borgo d'Oro, con 500 persone sedute a tavola questa sera attorno al Santuario Mariano della Città per celebrare la Dolorata. E questa dei borghi è un'esperienza che ormai in campo nazionale si sta rilevando vincente perché promuove il turismo, cultura, arte, tradizioni e come diceva un grande scrittore francese, Stendhal, che era molto appassionato del nostro paese nei borghi si va con la speranza di felicità. E questa sera qui a Bergamo, a questo bellissimo borgo di Santa Caterina che l'associazione ha certificato come secondo borgo onorario il primo è il Rione Monti di Roma, tra i borghi più belli d'Italia. Il menù della serata abbiamo un risotto per estracchitunt abbiamo dei casoncelli a bergamasca tradizionali, conditi burro, pancetta e salvia abbiamo poi del filetto al vino, abbiamo della cima ripiena, della polenta con i funghi seguire la torta del festeggiamento. Grazie a tutti! Grazie a tutti.